Marco ci si trova dopo tanti anni sempre su un campo di calcio e questo è sicuramente molto bello è importante esserci è la passione che ci porta a continuare con questo gruppo fino a che si può è un piacere essere nei campi da calcio e divertirsi più che altro il rapporto con il gruppo? per me è la prima stagione d'allenatore quindi è una cosa un po' così per ora tutto bene è una squadra molto giovane e rinnovata l'80% abbiamo avuto delle difficoltà nell'inizio di campionata però piano piano vedremo di venirne fuori ma poi qui ha indicatore da sempre c'è voglia di fare calcio l'indicatore è la patria del calcio per questa partita il gruppo è al completo? siamo al completo, è una partita difficile che per noi è una partita che dobbiamo per forza fare dei punti fare classifica e speriamo bene le motivazioni sono al massimo come sempre grazie